Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci ritroviamo nuovamente qui su Beholder Signori, nello scorso episodio abbiamo spiato il signore che stava al secondo appartamento e abbiamo scoperto che spacciava la droga e la droga non si può spacciare Oggi signori dovremmo, dovremmo, dovremmo spiare invece un altro signore e scoprire che... Merendimi, gansia e l'allanzia Allora, daily news, parola morte Il ministero dell'ordine ha notato un crescente interesse verso i libri di argomento filosofico incluse le opere di Paul William, morto un secolo fa I suoi libri presentano idee obsolete che si sono rivelati irrealistiche e che tuttavia continuano ad affascinare le persone come l'esistenza di una società senza governo e l'importanza del libero arbitrio Il ministero insiste sulla necessità di distruggere completamente le pericolose idee di Paul Williams La filosofia è un mucchio di ciocchiese Va bene, allora ragazzi, io direi di spiare l'appartamento no... Mero uno, parliamo con Mark... Mark Chiedi dei libri Lei è una persona istruita, Klaus Dove potrei trovare libri di testo di economia? All'università hanno dato a mio figlio una lista di libri da leggere ma non si trova in nessuna libreria Un'opzione sarebbe la biblioteca, ma la fila è sempre lunghissima Oh, il problema della biblioteca mi è ben noto Non è solo la fila, devi andare a Genio e bibliotecari altrimenti ti mandano via sui insospiegazioni Ma posso aiutarla? Ho dei libri di quando lavoravo per l'ufficio commerciale Sarei lieto se aiutassero suo figlio a studiare Tutti dovrebbero perseguire un'istruzione superiore Peccato che pochi siano d'accordo Oh, grazie! Mi ha dato i libri di economia, rari e preziosi! Ha salvato mio figlio, grazie Klaus E non solo mio figlio, ma anche il suo... ma anche il mio portafoglio Chiedi della pentola Ha una pentola adatta a preparare una composta? Farà meglio a parlare con mia moglie, Maria Io non so niente di faccende domestiche stoviglie Devo lavorare in una tabacchieria adesso I soffitti sono così bassi che devo inclinare la testa Prima lavoravo come capo economista, ma quei giorni sono finiti ormai Chiedi dei sospetti dall'autorità? C'è tempesta all'orizzonte Sarò probabilmente accusato di aver venduto tabacco antigovernativo E mischiate in qualcosa? È tutto a causa del condominio Mi sono rifiutato di consegnarglielo e sono stato accusato di cose orribili Stia bene, Carl Ok, ciao caro! Ti spio un po' dentro casa Spero che la cosa non ti dia fastidio Eeeh... Brr... Ok, non c'è niente di incredibile dentro Va benissimo Allora, buongiorno! Chiediamo di Klaus Skimmer Vorrei chiederle di Klaus Skimmer Per caso vi disturba? E' proprio una persona di valore Mi ha aiutato ad ottenere una bella bottiglia di sherry E' un esperto di vino a differenza del mio vecchio Uuuuh, abbiamo appena... No! Signora, mi serve parlare con le... Signora! Dobbiamo parlare con la signora Marta Skimmer Si aspetti, signora? Salve... Che alla chiediamo intanto della pentola Potrei chiederle un favore? Mi presterebbe una pentola capiente? Mia moglie vorrebbe preparare una composta Ma abbiamo perso la nostra pentola durante il trasloco Ce l'ho una pentola adatta? Eccola qua Ah, proprio... Ok C'ha le cosse attaccate Non è una pent... Vabbè, apprezziamo lo stesso Grazie, gliela restituiremo Non ce n'è bisogno Io e mio marito viviamo soli Non la usiamo mai La prego di accettarla come regalo di benvenuto Una pentola Grazie, signora Mi deve chiedere del marito Come sta il suo marito? Sembrava turbato Non sta bene Ma ha ricevuto un pacco contenente della pellicola A Klaus piace fare foto Questo lo tirerà su di morale Uuuuh Abbiamo appena scoperto Che al signor Klaus Piace fare le fotografie Gioca pure a scacchie Sì, papà Parla delle miniere Parla dei libri Ci sono novità riguardo ai libri, papà Ecco i tuoi libri Una pila Wow, mi metto al lavoro Non ho mai osato sperare di averne così tanti Forse, dopo tutto, non dovrò andare in quella tana di ratti In biblioteca, intendo Perfetto Ora parliamo con la nostra mogliere Magliere, cara Cosa c'è, Carl? Hai trovato la pentola, Carl? Ho preparato tutto per la composta Sì, Maria Skimmer dell'appartamento 1 ci ha salvati Non lesinare sullo zucchero in quella composta L'ultima volta sembrava acqua Sembrava acqua perché non avevamo né zucchero né mele Non è colpa mia se non hai ottenuto la tessera per lo zucchero Su col morale tesoro Ora ne abbiamo a sufficienza di zucchero Ah, ok Perfetto Fatto Uh, padre di famiglia Abbiamo sbloccato pure una cime Dobbiamo parlare ancora con Mark Raneck Uh, eccolo qua Manca farla apposta, ragazzi Appena arrivato Che cosa vuole da uno stimato archivista? Mi dai parlare di Klaus Skimmer? E perché? Di la verità sull'Incard Dai una risposta vaga Qui arrivano le prime domande Diamo una risposta vaga Non so niente che lei non sappia Inoltre la curiosità è un peccato grave Aveva un collega che ficcava continuamente il naso negli affari degli altri E nei documenti degli altri Chiedi cosa è successo È stato mandato in prigione Ha scoperto più di quanto avrebbe dovuto Arrivederci, giovanotto Eh, vabbè, è esagerato Comunque parliamo con la signora Salve Fai conoscenza Lasci che mi presenti Mi chiamo Carl Sono l'amministratore Che piacere Io sono il dottore Allius Spark Medico Avrà sentito parlare di me Tutta la città mi conosce Siamo sinceri Non è possibile Forse lei è appena arrivato Per cosa è famoso lei Non sono il tipo che si autocompiace Ho fatto solo il mio dovere Mi faccio sapere se le serve qualcosa Oh, che problemi potrei mai avere Nessuno Lei sarà molto impegnato Tutto bene? Oh, molto, molto Molto impegnato I pazienti fanno a gara per avermi Lei è un medico? Proprio così Non c'è da dubitarne Potrei curare perfino un uomo salve Beh, mi immagino la scena Salve, come sta? Bene Eh, venite da me Va bene Specialmente un uomo sano direi Ha una laurea Sto scherzando Ho dedicato tutta la vita A curare le persone I suoi dubbi mi feriscono Scusi È che è un lavoro difficile Come osa, mio caro Ecco qui Un ottimo modo per rilassarsi Beva responsabilmente Ma mi ha dato del whisky Ma non mi puoi dare del whisky Mi sta palestamente corrompendo Comunque non ho capito Ah, qui c'è Nathan Che è il venditore Che abbiamo visto nello scorso episodio Comunque dovremmo aver finito Devo redigere il profilo di Klaus Schimmer Mettiamoci un attimino alla scrivania Vediamo se possiamo vedere il profilo Non ho ben capito Ecco, redigi un profilo Dobbiamo parlare del signor Klaus Schimmer Appartamento numero uno Aspetta che vedo, non me lo ricordo Esatto Appartamento numero uno È un uomo Stato civile Vive appunto con Maria del Professione Tabaccaio Trascina qui gli elementi raccolti Abbiamo scoperto che Gioca Scacchi È un intenditore E ama fare fotografie Aspetta, lasciamo la postazione di lavoro Teoricamente voglio vedere una cosa Andiamo a spiare Perché ho notato che i soldi salivano Con l'aumentare degli oggetti Quindi volendo Potremmo scoprire Belle robe Beh, non mi dire che è arrivato il tabaccaio No, non è arrivato nessuno Non c'è nessuno dentro Quindi direi assolutamente di entrare Porca vacca Vieni a vedere velocemente sta libreria Ha bottiglie vuote Ok Marta Schimmer Ok, no, no, no Usciamo velocemente Andiamo di sotto No, no, no Nessuno ha visto nulla Ok, non siamo stati scoperti ragazzi Sono stato stupido Dovevo mettere la telecamera Dammit Eh, raga, ho sbagliato Però, vabbè, andiamo a spiare Ah, sta suonando il violino E la signora Uh, informazioni raccolte Suona il violino Come vedete ragazzi Anche spiandoli Otteniamo delle informazioni Ah, Anna ci vuole dare una missione Perfetto Fighissima come cosa Ok, stanno parlando Comunque sì Effettivamente è un uomo rispettabile Ah, la signora ha una missione Parliamo con la signora? Vabbè, con la signora È due ore che lo chiamo signore Ma è maschio Salve Vuole parlare? Avrei una richiesta personale È una richiesta molto personale Sono tutto orecchia Allo sì In ragione della mia professione Non ho tempo per occuparmi Dei miei problemi personali È il mio dovere civico Salvare vite 24 ore su 24 Sette giorni su sette So che è difficile Crederlo vedendomi Ma Sono molto timido Con le donne Arrossisco Mi confondo E ogni centimetro Del mio possente corpo Suda copiosamente Che schifo E cosa posso fare? Vuole un dedorante? Sua moglie è meravigliosa Carl È chiaro che lei ci sa fare Con le donne Mi sento solo Mi trovi una donna Carl Dovrei essere brava In cucina E in camera Da Come faccio a trovarti La fidanzata? Ma che cosa? Andiamo a parlare con Mia moglie Sì ma non posso Dargli mia moglie Non ho capito Si vuole bombare Cosa c'è Carl? Ho parlato con i vicini Carl Sono molto gentili Mi hanno detto Che un uomo col cilindro Si aggira vicino Casa di tanto in tanto Da lui si possono comprare Delle cose Il tipo di prima Come la cosa di dolce Per Marta Quella poverina Non mangia un cioccolatino Da mesi Un po' un respiro profondo Ma dai Nuova direttiva Governativa ricevuta È proibito Possedere bevande gasate Vabbè Ok Devo comprare Dei cioccolatini Dal mercante E darli a mia moglie Va bene No Ce n'è andato il mercante Tornerà domani mattina Però nel frattempo Io voglio spiare Voglio vedere Ah ma non c'è nessuno dentro Raga non c'è nessuno dentro Sapete che vuol dire Che possiamo entrare Scopri Signora Non Non è Che ti va No Signora Scusati e vattene Chiedo scusa Me ne vado subito Se ne vado immediatamente Mi perdoni signora No Chiedo scusa Non l'avevo vista Dal buco della serratura Chiedo scusa Infatti mi sembrava strano Che di notte Non ci fosse nessuno Vabbè Ok leggiamo la posta Ragazza giovane Carina e socievole Cerca uomo Telefonare 237451 Chiama Non te ne pentirà Andiamo Telefono Vai Aspetta facciamo doppio clic Corra Bravo ragazzo Componi un numero Componi il numero 237451 Salve mi chiamo Carl Chiamo riguardo al suo annuncio Interessante Parlami di te Oh no È per un mio amico È un po' timido Lo sto aiutando con una faccenda personale È pronta ad incontrare un celebre medico Un medico Come si chiama Alloisius Spak È quello di cui parlavano i giornali Devo pensarci Ti richiamerò fra un paio d'ore Va bene Grazie Resto in attesa Della sua telefonata Ok Sapete che vi dico Per il momento Schriviamo il profilo Perché tanto alla fine Dai Allora profilo Signor Klaus Appartamento 1 Uomo È sposato con Maria Schimmer Fa il tabaccaio E questo È quello che abbiamo scoperto Vedete che i soldi qui in basso aumentavano Quindi va bene Chiama il ministero E comunica Il completamento della missione Oh marone mia Rispondiamo velocemente Rispondi al telefono Accetta chiamata privata Pronto Karl Sono Clara Mi hai chiamato un paio d'ore fa Poi L'ho chiamato tre Tre secondi Vabbè Accetto di incontrare il tuo dottore Dagli il mio numero E la parola segreta Fragole con panna Te la sei annotata Attendo la sua telefonata Ok Fragole con panna Va bene C'è questo Veloce Doppio click Come Tavoletta di cioccolato Ok Compriamo questo Perfettissimo Oh È arrivato l'autobus Lui è qua che sta mangiando Uuuu È uscito il signore Portiamo la caramellina Comunque che abbiamo appena comprato Alla nostra mogliera Ovviamente sempre correndo Oh Karl Hai comprato i cioccolettini Grazie Ho così tante preoccupazioni Quando chiudo gli occhi Bla 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 Togliti questi pensieri alla testa Andrà tutto bene Non sono amico Uno stupido Bam Abbiamo finito la Questa È arrivato qua Uuuu Forse forse se n'è andata la mogliera Ragazzi Forse forse se n'è andata la mogliera Ma comunque non mi dicono niente Gli altri inquilini Se entro Se ne sbattono totalmente Gli zebedei Allora cerchiamo Dentro al pianoforte Modellino di now Alcuni pezzi Non sono stati ancora dipinti E incollati Aha Ama il modellismo A noi è arrivato nuovamente il camion Speriamo che non scenda la signora O il signore Ok è sceso lui Comunque andiamo a parlare con all'ousius Perché tra 19 ore finisce la missione Parla della solitudine Qualche preferenza Chi le piacerebbe incontrare? Chiunque Le ho trovato una ragazza Non vedo l'ora di incontrarla Il numero è 23745 Non la chiami Sta aspettando La chiamerò oggi stesso Ma prima devo raccogliere tutto il mio coraggio Potrebbe trovarmi del cioccolato Non sta bene Ma sei ricco Ma vattelo a comprare Il tipo non c'è Quindi non possiamo comprarlo Va bene Allora Entriamo Sempre qua dentro Perché voglio scoprire Tante 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 belle robe Vai veloce Veloce Guardiamo qua la tv Speriamo che non scenda nessuno Allora Orologio da polso Occhiali Bottiglie Gonna blu Portamonete Vano Ok nessuno di importante Vai veloci Controlliamo tutto Controlliamo tutto Scarponi Accappatoio Come vedete Uh orologio Madonna Uh lettera dall'estero Azz Corrisponde con stranieri Azz C'è stata la signora Scappa Vai giù Vai giù Vai giù Perfetto Oh comunque qua abbiamo un'altra missione Anna Stein Madonna Quante cose arrivano Cosa c'è Carl Scopri cosa è successo Cosa è successo Marta è malata Carl Non abbiamo medicina in casa Potresti trovare dell'aspirina per nostra figlia Ho aspettato un secolo in fila solo per scoprire che mi serviva una prescrizione Certo che la troverò Marta sta molto male No ha solo la febbre ma non mi piace come si sente Ma io non ho capito perché questi per mangiare vengono a mangiare qua Non comprendo Oddio nuova direttiva ricevuta È proibito indossare o vendere jeans Ma non hanno senso Ma non hanno proprio senso Vietato Vabbè Vorrei comprare qualche telecamera Magari ne compro giusto due Vorrei riparare tutti gli appartamenti Li riparo tutti tanto Uh è arrivato lui finalmente Prima parliamo con questo E compriamo le aspirine per appunto per aspirina Le compro e mi servono Quindi 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 Dove sta la mogliera Amore Corriamo dalla nostra dolce metà Amore Cosa c'è Carl Come sta Marta Hai tolato l'aspirina Marta è peggiorata Sì prendi Grazie Si sentirà meglio tra qualche giorno Perfetto Mi ha dato 50 di cosa Cosa c'è Carl TV rotta Chiamo un tecnico La riparerò appena posso Grazie tesoro Se non vero tutto fare Qui c'è un'altra missione Sì raga Dobbiamo fare quindi pure una caterba di missioni per tutti Madonna Ma perché lui fa tutto sto Non capisco perché tutti fanno Parla delle miniere Hai cambiato idea Odio le miniere No Che cosa Bisogna parlarti papà Cos'è successo Ho incontrato una ragazza carina E l'ho invitata a uscire Tra un paio di giorni ci sarà la prima di luci di speranza Sono arrivati degli attori dalla capitale Un momento Chi è questa ragazza Andrea Gorky Che carina e intelligente Le piace andare a teatro So che vorrebbe andare alla prima d'apertura È la mia occasione Papà Ma non ha abbastanza soldi per i biglietti Quanto ti serve? 550 È una bella somma Ah sì Ecco il denaro Grazie papà Sei il migliore Ma diamogli pure 20 Ma va Non dì la mamma Mi verserà addosso un'intera bottiglia di profumo La conosci? Ok abbiamo speso una caterba di soldi Ma va bene Non ho gli attrezzi per ripararla Se andiamo nello shop Posso comprare queste cose qua Perfettissimo Ripariamola Come avete visto è una cosa abbastanza semplice Perfetto Fatto Abbiamo ricevuto 50 di quella roba là Ah comunque dobbiamo ancora chiamare il ministro Mamma mia Menomale che non mi hanno picchiato Fai rapporto Ministro dell'ordine È tempo di agire compagno Carlo Devi dare lo sfra... Perché? Come faccio a dare lo sfratto a Schimmer? Parla con Schimmer A noi sta bene se va via Ma sarebbe meglio che lo denunciassi Nel caso violasse... È il tuo dovere compagno Carlo Che ne sarà di sua moglie? Di lei non ci importa Fa come ritieni meglio Ma perché lo devo sfrattare? Ma è cattivissimo Ama il modellismo È una persona per bene Ma mi sento un pezzo di merda Ma non riesco Ma no Ma no Ma non è giusto Comunque aspetta possiamo affittare Affittiamo l'appartamento a lui Nessuno vuole traslocare nel tuo condominio Ok Oh dai raga Ma ma ma... Oh ciao carissimo Parliamo col signore Jones Ponapedo Madonna è grossissimo Ah che non mi parla Va bene Guardiamo da questo spioncino Vediamo se il signore è in casa Sembra di no Quasi quasi Metto una telecamera Velocemente Metti una telecamera di terzo livello Veloce Esci subito Madonna mia Madonna mia Salve Chiedi cos'è successo Clara la donna che mi ha presentato È fantastica Può venire a vivere da me Certo Grazie La pagherò Oh grazie Non ce n'ha scritto che è contro le regole Cioè si dovrebbe potere Lo sta chiamando Clara Nuovo messaggio ricevuto Questo qua è il messaggio ricevuto Valla ad aprire Scandalo a teatro La direzione del teatro ha promesso di sospendere le rappresentazioni E di assicurare che in futuro esse non offendere i lavoratori Non ho ben capito Vabbè comunque qua abbiamo un'altra missione Andiamo a parlare con nostra mogliera Cosa c'è Carla Scopri cos'è successo Marta è peggiorata Carla L'aspirina non è stata d'aiuto Ho bisogno di un medico Trovo un medico L'ho già portata in ospedale Mi hanno detto di darle questa aspirina E pulirle il naso Con il sapone Carla Come faccio a lavare il naso di una bambina con il sapone Trovo un bravo medico per nostra figlia Andiamo qua subito Medico Salve La mia figlia è malatta Potrebbe visitarla Certo che la visitate È il mio dovere Sono un medico Oh grazie Ok grazie Uh la sta andando a visitare No dai amore Sta male No amore La sta visitando credo Ok l'abbiamo visitato Mi pare malissimo Buongiorno Ma perché lo devo Salve Me lo dica chiaro e tondo Carla È stato incaricato di spiarmi Deve stare più attento compagno Claus Andrò dritto al punto Ho ricevuto l'olio di mandarla via dal condominio Cosa? Loro vogliono sfrattare il mio condominio È inammissibile Scusate ogni tanto dimentico la voce Se avessi potuto avrei lasciato questo squale di un buco molto tempo fa Beh i miei problemi non dovrebbero assillarla Grazie per l'avvertimento Cosa hai intenzione di fare? Eeeh 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 Cosa hai intenzione di fare? È una brava persona Perché lo devo sfrattare Offriamogli il nostro aiuto Voglio aiutarla Perché non lascia la città? Questo è molto sospetto Carla Perché dovrebbe preoccuparsi per me? Non lo chiedo perché voglio aiutarla Mi danno la caccia È difficile credere che qualcuno si possa interessare i miei guai Mi hanno mandato a lavorare alla tabaccheria Quel piccolo chiosco di legno accanto al mercato del pesce Hanno preso il mio certificato d'assenza Senza sono bloccato qui Capisce? Cos'è un certificato? Dovrebbe saperle queste cose È un documento che serve sia per entrare nelle strutture di importanza strategica Sia per lasciare la città Stazioni ferroviare Porti e strade Composti di controllo Sono inaccessibili per me Perché non mi crederà? La versione ufficiale del ministro è che i documenti sono stati inviati agli archivi per l'aggiornamento dei dati Hanno detto che lì potevo ottenere lì Sono andato agli archivi Hanno detto che non c'era più nessun documento Ho passato una settimana in fila per parlare con un ispettore E poter presentare una domanda di ricerca Due mesi dopo mi è stato detto che avevo usato il modulo sbagliato per la domanda E che non avevano più quello che mi serviva Dannazione Intende dire che i documenti sono andati persi negli archivi? Sì, i documenti sono agli archivi Si dice che sia uno stratagemma per confondere i visitatori Non so se sia una battuta o no Oh madonna ragazzi Ottieni i documenti di skimmer dagli archivi Madonna Parliamo con Mark Raneck Lui lavora agli archivi ragazzi Cosa vuole uno stimato? Parla di come aiutare skimmer Lei lavora agli archivi? E a lei che importa? Lo sa già anche senza che glielo dica io Mi serve il suo aiuto C'è un brav'uomo che non riesce a ottenere dei documenti dagli archivi E chi sarebbe? I documenti delle brave persone non vengono portati agli archivi Non mi racconti storie Sto parlando di skimmer Dell'appartamento 1 Lo stato non lo vede di buon occhio Gli hanno tolto il certificato d'assenza E ora è bloccato qui Non mi piace Lavoro in una tabaccheria Non mi ha mai dato un po' di tabacco gratis Si comporta così Si parla in modo brusco perché ha paura Mi aiuti Mi porti il suo certificato d'assenza Non possono farcela Senza Lo capisce? D'accordo ma mi deve una bottiglia di whisky Senza non andrò a cercare tra i documenti confiscati Va bene Mi porti il whisky E ecco la bottiglia Acqua in bocca Ottima scelta Va bene Prenderò i documenti Torni più tardi Perfetto Qui c'è un'altra missione Ho perso i miei occhiali Carle Senza non posso lavorare agli archivi Aiuti un anziano Li cerchi nel condominio Li avrò lasciati da qualche parte Li avrò persi Non posso aspettare un mese Va bene Cercherò nel condominio Si sbrighi Potrei perdere il lavoro Guardiamo un attimino qua dentro Sembra non esserci nessuno Apriamo Nuova direttiva ricevuta Quasi quasi Io piaccio una bella telecamera qua Perfettissimo Telecamera piazzata Sapete Vi dico ragazzi Ne compro un altro bel po' Che ragazzi ho capito Ora ora cosa servono sti soldi Mettiamo una telecamera di terzo livello qua Perfetto Per il momento Una in una stanza va più che bene Cerchiamo quale roba Dobbiamo trovare gli occhiali del signore Quindi Un semplice pettine Perfetto Teoricamente gli occhiali li abbiamo trovati Teoricamente Ma va bene Ah Qui abbiamo del tabacco Ah Abbiamo scoperto che fuma la pipa il signore Ah ah Nella sedia non dovrebbe esserci nulla Teoricamente Però noi guardiamo giusto per Madonna la faccia Nella sedia non c'è nulla Kit di pronto soccorso Signora Ah 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 Che ci fate Vedo scusa me ne vado subito Se ne vado immediatamente Mi perdoni signora No mi scusi Ah L'ho stato scoperto per ben due volte Dammit Qua c'è il tipo Andiamo velocemente dal tipo Compriamo Vediamo cosa vende Commercia Per sbaglio ho comprato del cappero di vino Ma cosa questo qua vende dei jeans Non li può vendere È proibito possedere musica straniera È proibito piangere O riunirsi in più di tre persone Fuori dalla piazza principale Ma non ha senso Ma non hanno senso Signori Detto ciò Siamo messi veramente Mi volevo mettere qua Volevo vedere se mi prendeva di petto Abbiamo scoperto una caterba Di robe Mettiamo intanto pausa Oh mio dio Davvero Oh mio dio Aiuteremo il signor skimmer Ditemi la vostra qui sotto nei commenti Fatemi sapere se il gioco vi sta piacendo E nulla ragazzi Noi ci vado ad un prossimo video Vi voglio bene E ciao ciao Oddio questo gioco Oh mio dio